benvenuti da one peasy massimi esperti oggi parleremo del protagonista del monkey di luffy il pirata dal potenziale illimitato infatti in questo video andremo ad analizzare rufi ma soprattutto il suo livello combattivo attuale e futuro come sappiamo rufi è un combattente estremamente potente dotato di un immenso potenziale e di una grande crescita attualmente ha anche ottenuto un grande potenziale bellico e politico infatti come sappiamo ha salvato tanti regni tra cui drummala basta fishman island dress rosa fra tutti ed è attualmente a comando della grande flotta di cappello di paglia formato da 7 ciume con rispettivi capitani di ottimo livello e ben signori 5.600 uomini prima di analizzare la teoria vera e propria sul finale del video andiamo adesso a vedere il percorso di rufi durante il manga infatti la sua forza fisica deriva anche in parte dagli allenamenti a cui lo sottoponeva il suo nonno garco infatti sin da piccolo rufi doveva sopravvivere nelle circostanze più critiche e affrontare prove sempre più dure inoltre la sua forza fisica era tale da sovraffare i nemici più forti cercati più forti del mare orientale addirittura maggiore anche degli uomini pesce infatti lo dimostra nel combattimento con arlong che come forza era più alta della media normale degli uomini pesce ha anche scalato a mani nude la più alta vetta della montagna di drum nonostante il clima gelido e nonostante dovesse sopportare anche il pezzo di nami e di sanji inoltre il recupero di rufi è estremamente rapido e lo dimostra impel down anche grazie alla sua forza di volontà e ai poteri di ivankov però comunque lui è riuscito non solo a sopravvivere al veleno mortale di magellan ma anche a guarire in sole 20 ore una cosa veramente incredibile considerato un vero e proprio miracolo infatti dopo questo episodio il nostro capitano è diventato immune alla maggior parte dei veleni durante il suo viaggio rufi è riuscito a sconfiggere nemici con poteri insidiosi e pericolosi tra cui ben tre membri della flotta dei sette ovvero crocodile gecko moria nel play time skip e don kyo do flamingo nel post time skip cosa che solo lui può vantare in tutto il maio ha anche però sconfitto e neru che era considerato un vero e proprio dio a skypea nonostante grazie ai poteri potesse raggiungere addirittura la velocità dei fulmini inoltre è entrato nelle tre serie governo mondiale e ne è uscito a vivo incredibile veramente innanzitutto è entrato a denis lobby per salvare la nostra nico robin dove ha abbattuto rob lucci incredibile il più forte membro della cp9 attualmente il membro di punta della cp0 poi abbiamo visto impel down in cui entra di sua volontà e non perché era stato catturato e infatti lui è la principale causa dell'evasione di massa di impel down e ha liberato grandissimi pirati crocodile bagni jim back cavaliere del mare mister tri mister one e non solo loro ma anche i van koff grandissimo membro dell'armata rivoluzionaria creando così il caso più totale infine come sapete marineford infatti ha partecipato alla guerra per la supremazia salvando suo fratello eis portugais di eis o gol di eis come preferite che poi purtroppo è morto per mano di akainu però rufi è riuscito a sopravvivere a tutte e tre queste istituzioni del governo mondiale come dicevamo poc'anzi ha dimostrato anche una grandissima forza di volontà anche a thriller bag dove riesce ad ingerire ben 100 ombre senza perdere conoscenza nonostante un comune umano ne potesse ingerire massimo due o tre dopo i due anni di allenamento prima cosa lo vediamo alle sabaudi dimostrare un incremento di capacità pazzesche infatti batte con una facilità disarmante è un px poi a fishman island stende ben 50 mila uomini pesce con i suaghi del re devastante e poi dopo batte o di jones a punca hazard batte facilmente cesar clown gastino un pirata con una taglia di 300 milioni e con un frutto molto pericoloso il gas gas e address rosa incredibile ci mostra qualcosa di veramente stupefacente contro to flamingo mi riferisco al gear fort con un hachi e una forza fisica e una velocità incredibili passiamo ora a walk and kairan non ha solo sconfitto due dolci comandanti dei pirati di biglam infatti è riuscito a combattere per 11 ore di fila con charlotte cracker incredibile uno dei dolci comandanti con una taglia di 860 milioni di berri ma anche sostenuto uno scontro di bene 9 ore e mezzo con katakuri incredibile un pirata secondo solo alla madre in quanto a forza nella sua ciurma e con una taglia di un miliardo e ci manano 7 milioni quindi è riuscita ad entrare in un territorio di un imperatore ed uscirne vivo solo lui ci è riuscito perché era una cosa praticamente impossibile considerando che le altre supernova non erano neanche riuscite a vedere con il binocolo big mom le sue incredibili gesta lo hanno reso un pirata famosissimo nel nuovo mondo e gli hanno permesso di guadagnare una taglia di ben un miliardo e mezzo di berri infatti questo grazie a big news morgan's dopo quel che carland è stato definito il quinto imperatore dei mari dopo questa breve spiegazione sulle cose fatte prima dell'arrivo a wano kuni andiamo a focalizzarci adesso sulle caratteristiche fisiche e sulle abilità di rufi fino ad arrivare al suo livello combattivo attuale e futuro i gear rappresentano le tecniche con le quali rufi riesce a sfruttare a meglio le capacità che gli sono state donate dal frutto gam gam o gomu gomu grazie alle quali migliora a dici misura la sua forza fisica e la sua velocità per quanto riguarda l'aki rufi è stato addestrato per un anno e mezzo da sivers relli il re oscuro il braccio destro del re dei pirati diventando così anche lui un esperto dell'aki e passando ulteriori sei mesi ad allenarsi da solo per affinare le sue tecniche rufi sa usare l'aki della percezione e lo dimostra durante il stato temporale doveva imparare ad usarla in modo efficace addirittura durante lo scontro con katakuri impara a predire l'immediato futuro attualmente a wano kuni ci ha mostrato di eccellerare anche in ciò infatti durante l'allenamento a udon insieme a yogoro prevede continuamente le mosse dei loro nemici padroneggia anche l'aki dell'armatura ad altissimi livelli tanto da averla resa parte essenziale del ghiar fort con le sue abilità in combinazione con i poteri del frutto rufi è anche in grado di incendiare i suoi pugni grazie all'attito formando così il re doc di recente ha inoltre utilizzato uno stadio più avanzato dell'achio dell'armatura per distruggere dall'interno il suo collare e quello di yogoro ci riferiamo al rio il ciliegio fluente così definito a wano kuni infine sa utilizzare la forma più rara dell'aki ci riferiamo al riconquistatore l'ambizione che hanno solo gli eletti luffy è anche in grado di sentire la voce di ogni cosa come re dei mare e zunisha questa particolare abilità ce l'avevano gol di rogi e kozuki ote il leggendario samurai incredibile adesso passiamo ai possibili poteri futuri analizzando naturalmente anche i vari gear luffy come abbiamo già detto è un genio del combattimento infatti come abbiamo visto durante tutta l'opera il nostro capitano in combattimento si spinge sempre al limite ed impara sempre qualcosa dai suoi avversari ad ogni scontro infatti luffy diventa superiore a se stesso e al suo avversario questo perché studia i suoi movimenti sui poteri e impara a sfruttare anche il minimo punto debole a suo favore gli esempi più vicini sono stati katakuri da cui ha preso l'acchi della percezione incredibile e quindi gli ha permesso di vedere anche a lui nel futuro e anche la forma più avanzata dell'acchi dall'armatura e rio il ciliegio fluente dove l'ha imparata a udon grazie anche a yogoro e adesso andiamo ad analizzare i vari gear di rufi il gear secondo che aumenta la pressione del sangue rendendo luffy più forte e più veloce nel post time skip ha inserito anche l'acchi nelle sue varie tecniche il gear third che gli aumenta la grandezza delle ossa facendosi che le sue gambe le sue braccia i suoi pugni diventino enormi dopo il time skip ha aumentato le sue tecniche unendo gli lachi anche qui il gear fourth che modifica la conformazione muscolare miscelando delle caratteristiche del frutto con l'acchi la prima versione che abbiamo visto è il bound man il fenomenale uomo rimbalzo il bound man è un misto di forza e velocità con cui luffy riesce anche a volare questa combinazione moltiplica la forza dei suoi attacchi ed inoltre lo rende molto resistente agli attacchi degli avversari in quanto una buona parte del corpo rimane elastica riuscendo quindi a respingere gli attacchi fisici secondo do flamingo questa forma combina i vantaggi dell'ambizione dell'armatura con quelli della gomma poi passiamo al gear fourth tank man in questa forma rufi somiglia ad un lottatore di sumo con delle proporzioni esagerate dato che il torso diventa più grande e tondo in questo modo le spade non riescono a perforarlo e la sua pancia dopo aver inglobato il nemico può scagliarlo a grande distanza come un cannone può ottenere questa trasformazione solo dopo aver mangiato tanto il gear fourth snake man l'ultima versione vista anche in questa forma il corpo di rufi cambia di proporzione con avambraccia e gambe leggermente irrobustiti e ricoperti di ambizione di hachi chiude pugni in modo diverso con i pollici in linea con le nocche e può piegare le braccia per cambiare la direzione dei suoi colpi questi colpi diventano via via più veloci man mano che il braccio si allunga finché non colpiscono l'avversario tuttavia le sue difese sono ridotte oltre queste trasformazioni all'appello secondo il pattern di Oda potrebbero mancare altre versioni o altre tecniche del gear fourth difatti tra le varie bestie con cui l'ufi si è allenato mancano la tigre e il coccodrillo dopo aver esplicato i vari gear rivisti finora iniziamo adesso a parlare delle nostre relazioni innanzitutto il gear 5 o fifth tecnicamente questa marcia è stata introdotta con la caratteristica di aumentare al massimo la velocità raggiungibile e quindi di risparmiare molto il combustibile quindi per rufi sarebbe un grandissimo risparmio di hachi e di energia qualcosa ancora più incredibile quello che potrebbe essere il possibile risveglio di rufi poi vi è quello di cui noi parlammo già in un video dedicato di solo i tre minuti uno dei nostri primi video cioè il retro gear a cui rufi potrebbe attingere a che cosa? alle sue energie interne recuperando quelle e l'hachi sarebbe un po' come il ritorno alla vita utilizzato dall'ex cp9 ed infine possiamo andare a vedere quello che potrebbe essere il possibile risveglio di rufi innanzitutto il risveglio potrebbe far sì che l'ambiente circostante diventi di gomma sulla falsa riga dei frutti di doffi e kata essendo anche quello di rufi un paramisha con la differenza però che i fili del mochi si dividevano, si aprivano, la gomma invece non si divide potrebbe rendere comunque elastico tutto, anche l'area, stile, gent, criminal se avete visto My Hero Academia sapete a cosa mi riferisco inoltre il risveglio gli potrebbe permettere di intercambiare le varie funzioni, le varie forme dei vari ghial, second, third, fourth, nelle sue forme senza nessun problema e quindi il risveglio agirebbe anche su se stesso e non solo su ciò che lo circonda ciò sarebbe dovuto anche alle due settimane passate in miniera a prigione a Dudon, a Wano Kuni perché infatti potrebbe mescolare anche con le sue nuove tecniche che cosa l'agri dell'armatura più sviluppato il Ryou detto ciò passiamo al momento focale del video perché noi crediamo che rufi debba essere confrontato con gli imperatori quindi attraverso lo scontro che avverrà tra poco lui raggiungerà il livello di potenza definitivo quindi per i più scettici gli diciamo di aspettare con fiducia lo scontro che avrà Onigashima nei capitoli che seguiranno e vedrete sicuramente dei grandissimi miglioramenti perché da lì non si scappa, si combatte quindi per chi crede che Kaido non verrà sconfitto beh ne resterà deluso e credo che la stessa sorte toccherà a Big Mom se non qui a Donigashima, cosa che però io spero che accada sicuramente avverrà a Delbaf anche se non vorremmo vederla ancora in un'altra saga successiva concludiamo con il reparto combattivo dicendo che rufi è veramente pirata dal potenziale illimitato e sicuramente a fine manga sarà anche in grado di dimostrare di essere il più forte di tutti magari solo pochi pirati potranno veramente contrastare monche di rufi detto ciò bisogna sottolineare il più grande potere di rufi non si tratta di tutte le sue trasformazioni ed evoluzioni ma, bensì, come sappiamo, si tratta della capacità di farsi alleati ovunque e gli vada un potere che possiedono solo i predestinati, i prescelti per concludere passiamo a delle riflessioni finali su Luffy e la volontà dell'Addy facendo un riferimento sull'Addy e su Destino e One Piece vogliamo sottolineare che è pur vero che i membri del canale dell'Addy sembrano dei predestinati e Luffy in particolar modo essendo lui il nuovo Joy Boy però questo fato, questo destino che sembra prendere forma in realtà è creato a poco a poco da Luffy essendo stato sempre libero nelle sue scelte è mai vincolato dalle catene del destino perché il re dei pirati, secondo Luffy, è l'uomo più libero del mondo detto ciò, il video teoria è finito come sempre, iscrivetevi al nostro canale YouTube se non siete ancora nostri utenti attivate la campanella per avere sempre tutte le notifiche passate da tutti i nostri link in descrizione ma soprattutto andate nelle nostre playlist questa qua, video teoria che è quella più forte e andatevi a vedere tutti i nostri video perché come sempre noi diciamo solo la verità Kaido, Dejire Koshiro, Ushimizu Koso e tanti altri quindi andatevi a vedere non per ultimo Shanks il Rosso e fateci sapere voi cosa ne pensate con un piccolo commento e con un like naturalmente non abbiate paura perché anche se scrivete un commento da sfogliatore ci siamo noi a portare la verità in YouTube per quanto concerne One Piece in Italia perché ricordatevi che noi siamo solamente, solamente i massimi esperti di One Piece in Italia